L'artrosi si può prevenire? Si può prevenire facendo una giusta e corretta alimentazione, quindi un corretto peso corporeo, cercare di mobilizzare le articolazioni, cercare di fare attività sportiva, integratori e controprotettori, però anche l'artrosi c'è una genetica che è una cosa difficile da prevenire e non è modificabile. In entrambi i casi quali sono i principali campanelli d'allarme? Per quanto riguarda l'artrosi, sono i traumi articolari, le distorsioni per quanto riguarda il ginocchio e caviglia, per quanto riguarda la spalla e le lustrazioni, per quanto riguarda l'artrosi, quindi anche patologie traumatiche del giovane.